Corso di Michetti, non c'è pericolo perché le auto non passano oggi, perché l'intera via, l'intero corso storico di Teramo è stato sequestrato da un cantiere la cui ordinanza è stata notificata alle 9.28 di questa mattina. Sì, io sono l'amministratore del garage del corso, questa mattina un condomino mi dice che non poteva uscire dal garage e quindi di verificare. Sono venuta qui e ho visto che effettivamente quello che si può vedere c'è un cantiere aperto. Noi a luglio avevamo avuto una comunicazione dall'ufficio tecnico del comune di Teramo che ci diceva che ci avrebbero inviato un'ordinanza con il quale il garage effettivamente sarebbe stato inagibile per alcun tempo, però che avremmo avuto una comunicazione in tempo per poterci trovare o altre collocazioni o comunque il comune ci avrebbe dovuto garantire a persone che hanno lì anche dei contratti di affitto, un posto dove effettivamente parcheggiare. Scusi se ne interrompo dottoressa, però l'ordinanza gli è stata notificata? Sì, questa mattina alle 9.28, quindi quando i condomini già mi avevano avvisato, io ero già sul posto e ho visto che il cantiere era aperto, avevo chiesto a degli operai, mi dicono perché non era arrivato qua, dice sì sì chiudiamo, chiudiamo, però alle 9.28 capisce che io chi avviso, quale assemblea posso convocare per dire ai condomini facciamo come dire anche un'azione di protesta o comunque fare qualcosa che avrebbe potuto permettere a questi condomini di trovarsi un posto. Ci scusi, che lavoro stanno facendo? Particolari, non so esattamente che cosa fanno, dicono che fanno i marciapiedi però... Avete avuto un'ordinanza? No, ci hanno detto niente. Ci fa leggere l'ordinanza che le hanno sicuramente notificate in tempo? Non abbiamo nessuna ordinanza, non sappiamo nulla, non conosciamo nessuna informazione in merito a non so cosa faranno qui, la tempistica, la durata, che cosa saranno, non si sa niente. Non conosciamo nessuna informazione in una riunione per sapere qualcosa, niente. Non si è saputo nulla. Un messaggio al sindaco? Il sindaco deve scendere in piazza e capire i problemi dei cittadini. Non è che si fa le cose solo e solamente sulla carta. Non è possibile sulla carta. Deve scendere e capire i problemi della città. Questo è il punto. Grazie. Grazie.